Torna a tremare la terra marchigiana e lo fa alla vigilia del quinto anniversario del sisma del 2016 che sconvolse la regione. Questa volta però il terremoto ha procurato solo un grande spavento ma senza procurare danni. La prima scossa, nonché la più violenta, è arrivata alle 12.53 con epicentro a 3 km a nord del borgo di Monte Felcino e a 38 km di profondità. Un sisma con una magnitudo 4.3 seguito tre minuti dopo da un'altra scossa con epicentro spostato a Serrungarina nel territorio di Coglia al Metauro. Qui la magnitudo è stata di 2.7. Serrungarina è stata poi il centro di una terza scossa ancora più lieve di magnitudo 2.3 avvenuta alle ore 13.25. Alle 15.07 una quarta scossa di magnitudo 2.6 di nuovo nel territorio di Monte Felcino. La scossa di Monte Felcino ha rappresentato il sisma più potente avvertito nelle Marche in questo 2021 ma la stessa amministrazione comunale attraverso i social ha prontamente rassicurato sul fatto che non si siano rilevati danni di particolare entità. Lo stesso dicasi nel comune di Coglia al Metauro secondo epicentro del sisma. Da noi nel nostro comune nulla di preoccupante e ho già immediatamente subito allo scorso dato mandato poi l'ufficio tecnico di andare a verificare immediatamente tutti i plessi scolastici e non hanno riscontrato nulla di anomalo o che non andasse bene. La protezione civile ci ha dato riscontro estremamente positivo che sul territorio non fosse caduta nulla e la scossa è parte del nostro comando di polizia locale. Quindi un grande spavento. Poi i dirigenti, per noi abbiamo due istituti comprensivi che interessano il nostro territorio e entrambi hanno per precauzione fatto evacuare le scuole e rimandato i ragazzi a casa accompagnati logicamente dai genitori o in alcuni casi quando la scuola era in prossimità della conclusione intorno alle luna hanno atteso proprio la conclusione fuori dall'istituto e poi sono rientrati a casa con i pulmini del trasporto scolastico. Proprio la coincidenza del sisma con la conclusione dell'orario scolastico ha scatenato una diffusa evacuazione di gran parte delle scuole della provincia come previsto dal piano d'emergenza. E' stato così a Pesaro ma anche a Fano dove si è pure deciso di sospendere ogni attività scolastica prevista nel pomeriggio e nella mattinata di sabato per effettuare verifiche approfondite. Una scelta di chiusura decisa dalla Giunta dopo la riunione del centro operativo comunale che ha portato a decidere di fermare anche l'attività della Mediateca Montanari e della Biblioteca Federiciana. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco arrivate anche da Isola del Piano, Cartoceto e Monbaroccio così come da Fossombrone, Vallefoglie e Marotta. Le verifiche sono attualmente in corso su una scossa che è stata avvertita anche in Umbria e in Romagna. Trenitalia nel pomeriggio ha anche deciso di sospendere la circolazione ferroviaria tra Rimini e Ancona, tra Falconara Marittima e Fabriano e tra Civitanova e Fabriano.